E' la prima occasione di promozione economica della realtà industriale e produttiva di Napoli della Campania nella Cina orientale. La settimana dal 1 all'8 novembre 2013, denominata Napoli a Shanghai, l'oro di Napoli, sarà dedicata ad incontri di iniziative finalizzate da trarre investimenti e turismo dalla Cina. Ed è stata promossa dall'Unione Industriale di Napoli insieme col Ministero degli Affari Esteri, l'ICE, il Comune di Napoli e la Regione Campania. Noi siamo sempre stati convinti che la nostra non è una crisi di prodotto, perché i prodotti li abbiamo e sono buoni, ma è una crisi di mercato. Cioè qui non riescono le aziende ad andare oltre i confine e quando ci vanno le risposte sono sempre positive. Quella di Shanghai è una meta importantissima, perché il mercato cinese lo conosciamo tutti e soprattutto perché sono loro che ci richiedono. Più in particolare poi c'è un flusso enorme di turismo cinese che chiede di voler entrare da noi e di conoscere i nostri territori. Sono previsti incontri fra imprenditori campani e cinesi, workshop di promozione degli investimenti e del turismo, un festival della pizza napoletana, mostre di arte contemporanea e spettacoli. E l'attenzione sarà incentrata soprattutto su alcuni settori come quello alimentare, aeronautico e metalmeccanico, oltre ad orificeria, arredamento, nautica e moda. Ancora una volta e sempre di più Napoli con una dimensione internazionale di una città nel mondo è aperta agli scambi, in particolare in questo caso con la Cina che è il primo mercato mondiale.